Il convento di Greccio è raggiungibile da Rieti seguendo lo stesso itinerario per Fonte Colombo, ma deviando dopo appena tre chilometri verso Contigliano, lasciando sulla sinistra le vestigia dell'abbazia di San Pastore, un edificio cistercense di cui restano la chiesa con sede quadrata, il chiostro e la sala capitolare, ma tutto in abbandono e invaso dalla vegetazione. Dal paese di Greccio, che bisogna superare, si vede il convento francescano aggrappato alla parete di una roccia tra folti boschi di querce. La tradizione narra che nel 1217 Francesco dimorò sulla sommità del monte Lacerone, costruendosi un rifugio fra due carpini, dove poi sorse nel 1792 una cappellina al ricordo. Ma sembra che il santo vi fosse già stato nel 1209, costruendosi un rifugio sempre tra due carpini sul monte Lacerone. Vi ritornò ancora nel 1223. La popolazione di Greccio chiese al santo eremita di far costruire un convento in paese, ma Francesco pose in mano a un fanciullo un tizzone acceso e lo pregò di scagliarlo. Dove fosse caduto il tizzone, là sarebbe stato costruito il convento. Così vuole la tradizione. Il tizzone volò per l'aria andando a cadere sulla roccia dove fu fondato il primo ritiro e ai tempi di San Buonaventura il convento, a picco sulla valle sottostante con la visione del terminillo. La strada conduce a una spianata dominata da una quercia da cui muove una comoda cordonata che porta alle soglie dell'edificio conventuale. Si percorre poi uno stretto corridoio e si giunge alla cappella di San Luca o del presepio, cosiddetta perché nella notte di Natale del 1223, in presenza di una folla di gente venuta da Greccio e dai casali dei dintorni, Francesco rinnovò il mistero della natività del Redentore, costruendo il primo presepio, pochi giorni dopo l'approvazione della regola da parte di Papa Onorio III. Sul fondo della cappella sopra l'altare si nota un affresco quattrocentesco di scuola umbra con la natività. Usciti dalla cappella del presepio e visitato il primo dormitorio dei frati, si entra nella cella dove il santo dormiva sulla roccia e il luogo dove si trova il pulpito di San Bernardino. Di qui si passa alla suggestiva piccola chiesa della prima metà del 1200, con volta decorata di stelle e dell'immagine del beato Giovanni da Parma. Rimangono i rogistalli del coro, il leggio e il supporto ligno girevole della lanterna che illuminava le pagine del corale. La visita prosegue lungo l'ascetico dormitorio di nude celle-ligne risalente al tempo di San Bonaventura, sistemate nel 1260-1270 e usate fino al 1915. Vi è una raccolta di arredi sacri duecenteschi, fra cui le taglierine con cui Francesco preparava le ostie. Usciti fuori ci si può portare lungo il sentiero che conduce al bosco per vedere la roccia del tizione ardente, ma anche la grotta del beato Giovanni da Parma, che vi rimase per ben 32 anni senza uscire dal 1257 al 1289. È una loggia quasi sospesa a mezz'aria, da cui si ammira un incantevole panorama.